Dieci anni fa il comune di Campodipietra installò tre antenne per il collegamento internet gratuito in altrettanti punti del paese per certi versi fu precursore. Ad aprile del 2019 ha partecipato al Bande Europeo Wi-Fi Foreu per avere collegamenti gratis più veloci e capillari in più punti del territorio cittadino per tutti, come hanno spiegato il sindaco Giuseppe Notartomaso e il vice sindaco Giuseppe Riccitelli. Siamo stati tra i 511 comuni ad avere questo finanziamento di 15.000 euro per poter installare diversi hotspot sul territorio di Campodipietra. Adesso con questi nuovi hotspot è possibile accedere tranquillamente con un semplice login andando a ricercare la rete e la connessione è automatica ed è direttamente controllata dal gestore che ha installato gli hotspot e quindi molto più sicura di tante altre reti. I lavori anche a Campodipietra sono stati eseguiti da Interfibra, punto di riferimento per il Wi-Fi in Molise ma anche in Abruzzo e nelle aree limitrofe di Lazio, Campania e Puglia e per le installazioni della fibra in tutta Italia. Di installare il tutto è stato Interfibra con dei professionisti con i quali già avevamo avuto rapporti in precedenza perché anche la nostra casa comunale comunque è tutta gestita interamente da Interfibra come le nostre scuole. Quindi ci siamo trovati bene, naturalmente sono stati molto disponibili e hanno accontentato tutte le nostre richieste di noi amministratori che siamo sempre molto esigenti. A Campodipietra quasi ovunque è possibile collegarsi a internet con un semplice clic sul cellulare senza login nel centro abitato davanti al municipio in piazza San Martino nell'area dell'impiantistica sportiva in piazza della Rimembranza, luogo di Gezzi in campo e in altri punti. Il bando prevedeva l'installazione nelle piazze e quindi abbiamo cercato di coprire parte anche del territorio extraurbano come ad esempio la parte del tratturo Lucera-Castel di Sangro, abbiamo messo lì tre hotspot proprio in vista del progetto del CIS. Inoltre come è stato spiegato c'è la possibilità di accedere al bando ogni anno per implementare la copertura. Se ci verrà data l'opportunità e quindi di percepire questi 15 mila euro siamo pronti ad installare altri hotspot. Abbiamo cercato un po' il centro urbano di poter dare l'opportunità a tutti di connettersi gratuitamente. E se ci verrà data l'opportunità di accedere a questi finanziamenti di nuovo saremo pronti a coprire altra parte del territorio comunale.